Buongiorno cari amici di Orizzonte Scuola eh TV eh questa è una piccola videoguida eh un tutorial riguardante eh la presentazione delle domande di mobilità in organico di fatto le la mobilità annuale le assegnazioni provvisorie le utilizzazioni per l'anno scolastico duemilaventuno duemilaventidue per eh il eh personale scolastico eh ma da ieri e il quindici giugno sono eh iniziate per il eh personale docente dal quindici giugno al cinque luglio mentre per quanto riguarda il personale ATA eh saranno dal ventotto giugno al eh quindici eh di eh di luglio ehm il eh sistema appunto eh per quanto riguarda la presentazione delle domande sarà eh su eh istanze online un sistema che eh tanti di voi eh già eh conoscono ehm c'è da dire c'è da aggiungere che comunque ci sono alcune eh per quanto riguarda il personale docente sarà eh online ma ci sono alcuni docenti eh che dovranno presentare la procedura eh in modalità eh cartacea e sono eh quei docenti di primo e di secondo grado assunti a tempo determinato eh l'uno settembre duemiladiciotto dalla graduatoria di merito che hanno svolto eh l'anno eh che hanno svolto nel eh nell'anno scolastico in corso del duemilaventi duemilaventuno il periodo di prova eh formazione che non hanno svolto nel duemiladiciotto eh duemiladiciannove o nel duemiladiciannove e duemila eh venti perché tale personale avrà decorrenza giuridica ed economica a partire dal primo eh settembre duemilaventuno questi docenti dovranno presentare domande in modalità cartacea anche il personale ATA dovrà presentare domanda eh in eh modalità cartacea ci sono già i moduli disponibili nell'area riservata ma anche eh sul nostro sito eh andiamo eh subito a eh presentare la eh piattaforma eh ministeriale distanze online per accedere alla piattaforma ministeriale eh di eh dovete ovviamente avere eh la eh l'username e la password questo per i eh vecchi eh utenti per i nuovi utenti per chi si iscrive per chi si iscrive per la prima volta a istanza online dovrà eh però eh attivare eh la eh procedura eh dello speed e quindi dovrà eh prima e dovrà eh diciamo eh eh ottenere queste credenziali digitali e del sistema pubblico di identità eh digitale e questo sarà questo sistema possiamo dire di compresenza sarà valido fino al trenta settembre du mila ventuno poi da ottobre tutti dovranno avere lo speed per entrare in eh istanze eh in istanze online eh rispetto eh all'anno scorso eh possiamo dire che all'interno del portale Polis è disponibile un unico punto di accesso denominato presentazione domanda mobilità in organico di di fatto eh tramite il quale ciascun richiedente potrà presentare le due diverse tipologie di domanda utilizzazione e assegnazione provvisoria per tutti gli ordini e i gradi eh di eh istruzione eh come vedete qui ci sono i riferimenti normativi e le scadenze amministrative l'assistenza web e le istruzioni anche per eh la compilazione clicchiamo su vai alla compilazione e abbiamo appunto una schermata dove dice tra l'altro di stare molto attenti al a non cliccare il tasto indietro ad andare indietro perché la sessione eh verrà verrebbe così scaduta eh cioè andrebbe eh quindi a a perdersi andrebbero a perdersi i dati eh che abbiamo eh inserito eh ovviamente qui a schermo delle indicazioni che vanno lette eh che vanno lette eh per la eh corretta compilazione della eh della domanda e clicchiamo su l'informativa eh sulla privacy e e andiamo su avanti eh abbiamo i nostri dati adagrafici di titolarità i dati di servizio tutto quello che eh riguarda la nostra eh posizione entriamo dunque eh nel sistema e dobbiamo sotto dobbiamo eh diciamo selezionare un ordine infanzia primaria secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado noi clicchiamo su eh scuola secondaria di secondo grado mediamo appunto che ci sono tutte le province italiane ne scegliamo una eh a caso potremmo appunto scegliere quella di eh Roma e facciamo appunto eh inserisci quindi eh per quanto riguarda l'assegnazione provvisoria e adesso avremo il sistema come lo abbiamo eh diciamo visto anche negli altri eh negli altri anni quindi con eh il eh sistema delle precedenze delle esigenze di famiglia eh dell'ordine trattamento domanda le altre indicazioni le tipologie di posto e l'abilitazione eh alle classi eh di eh di eh concorso eh diciamo subito che il sistema eh per per andare avanti eh consente appunto eh l'indicazione di eh di alcuni campi obbligatori che vi dico subito eh quali sono sono il campo numero venti ordine di grado della presente domanda primo secondo o terzo grado eh quindi questo dobbiamo eh stabilirlo poi eh il eh la sezione H quindi la tipologia di posto richiesta se posto di sostegno o posto normale è il grado eh di è per la classe di concorso per cui si chiede eh l'assegnazione eh mettiamo eh ad esempio eh il eh campo numero venti mettiamo uno eh poi mettiamo posto eh normale e poi la classe di filosofia e storia eh facciamo eh salva operazione effettuata con successo e abbiamo quindi poi un'altra eh eh e andiamo ora eh a a vedere il la sezione quella di cioè quella delle eh precedenze che è una eh diciamo una eh una sezione molto eh molto importante eh il dalla casella sette alla casella sedici sono inserite tutte le precedenti previste nell'articolo otto del contratto eh collettivo eh nazionale proprio eh per quanto riguarda le eh eh i assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni quello firmato l'otto luglio duemilaventi che è valido fino al duemila e ventidue potete vederlo eh potete visionarlo sul nostro sito è importante perché lì trovate tutte le eh indicazioni e ehm possiamo anche eh vedere eh quali sono le eh appunto le varie ehm diciamo particolarità eh per eh quanto riguarda il eh le eh assegnazioni le assegnazioni provvisorie perché comunque eh ci sono delle eh delle precedenze eh che vanno eh subito da eh subito sottolineate quindi precedenza appunto per per assistere familiari con la legge cento quattro la lettera G è assistenza al figlio disabile la lettera H ha assistenza al coniuge disabile la lettera I assistenza al genitore disabile lettera L docenti con età di eh con figli di età inferiore a sei anni e lettera M docenti con figli di età compresa tra eh sei e eh dodici anni eh diamo eh subito una piccola eh indicazione eh questa frutto anche della contrattazione che c'è stata tra eh sindacati e ehm e ministero eh ci sono delle novità eh perché ehm soprattutto per quanto riguarda eh il i docenti vincolati eh in deroga al vincolo triennale accedono i docenti beneficiari di garanzie di legge anche genitori con figli minori di tre anni la legge centocinquantuno del duemila uno e il coniuge convivente di militare trasferito eh da autorità ehm ecco quindi eh altre indicazioni quindi sulle eh precedenze eh poi abbiamo la lettera F con le esigenze di eh famiglia eh e dobbiamo quindi eh eh indicare ecco un'altra eh sezione per il ricongiimento al coniuge si dovrà selezionare nel eh menu eh appunto eh appunto il comune eh il comune di ricongiungimento dove si vuole usufruire di sei punti aggiuntivi quindi dobbiamo scegliere eh poi il eh comune e nella sezione eh poi abbiamo eh appunto il numero di figli di età inferiore ai sei anni il numero dei dei figli di età eh superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto il comune dove si possono dove possono essere assistiti il coniuge i figli minorati e i tossico eh dipendenti eh nella sezione ecco la sezione G1 è solo per i titolari su altro ordine eh di scuola quindi questa sezione appunto eh lo abbiamo vista le altre indicazioni ecco eh questa è qua la sezione altre indicazioni interessa soltanto i docenti che chiedono assegnazione provvisoria anche su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibile con l'orario di servizio e lo possiamo appunto vedere nel punto ventidue quindi questa è dedicata soprattutto a chi eh eh part time quindi non ha un orario pieno eh la sezione H poi eh l'abbiamo già vista è dedicata a posti di sostegno posti normali ecco indicare le varie ehm le varie voci in base alla propria eh situazione ecco poi eh la sezione M è eh la classe di concorso per cui eh chi richiede eh l'assegnazione ecco eh clicchiamo appunto su eh questa eh su queste voci abbiamo detto alcune sono ovviamente obbligatorie e non possiamo andare nelle altre due parti cioè preferenze e eh allegati eh quindi andiamo su preferenze modifica ad inserire al massimo quindici preferenze perché nella sezione appunto preferenze si dovranno inserire le preferenze territoriali che non potranno essere il numero superiore a quindici per scuola secondaria di primo grado e secondo grado o il numero superiore a venti per scuola infanzia e primaria quindi facciamo aggiungi preferenze cerchiamo appunto le varie scuole in base al numero di distretto questo poi sono indicazioni che ognuno di noi eh eh sa bene ma comunque si possono ricercare eh abbiamo un appunto un motore di ricerca interno a istanze online eh facciamo appunto a nulla eh eh per adesso ehm e eh perché eh e poi abbiamo la domanda allegati dove vengono inserite tutte le eh i agli allegati utili per la compilazione della domanda la domanda salvata sarà risulterà in stato di eh bozza eh e come lo vedete qua eh possiamo rettificarla visualizzarla inviarla stamparla e anche cancellarla cancellarla tramite il codice personale che ognuno di noi avrà avuto eh quando si è iscritto eh a istanze eh online fino al cinque luglio si potrà eh annullare l'invio ed eventualmente modificare la domanda per inviarla di nuovo è consigliabile però non aspettare l'ultimo giorno per eseguire tale operazione in quanto un problema di connessione o un blocco del sistema potrebbe impedire al docenti di completare l'invio dopo il eh cinque luglio infatti non sarà più possibile operare nella domanda in quanto le funzioni della nella piattaforma ministeriale in istanze online saranno disattivate a questo proposito infatti dall'otto luglio saranno disponibili all'interno del portale Sidi le funzioni per la gestione e la valutazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria quindi poi ci sarà un'altra parte quella poi eh dedicata eh alle scuole eh ovviamente eh sappiamo eh ecco è importante sapere che si può richiedere l'assegnazione provvisoria per una sola provincia e comunque deve ehm e questo è sicuramente importante il docente coniugato può scegliere di ricongiungersi a un familiare diverso rispetto al codice e questo eh si può eh si può fare mentre non eh mentre il docente che vuole ricongiungersi al genitore non deve essere convivente con lo stesso ecco questo no è una delle domande che ci avete chiesto eh nei giorni scorsi abbiamo già fatto un question time con eh Paolo Pizzo della Will Scuola ne faremo altri eh nei eh nei prossimi eh nei prossimi giorni ehm quindi eh abbiamo eh già detto eh per quanto riguarda ecco un altro eh aspetto fondamentale eh riguarda eh il posti di sostegno ecco questa prima eh di chiudere questo primo eh tutorial il docente titolare su un posto di sostegno può si può richiedere l'assegnazione anche su tipi di su posti di tipo comuni solo se però ha superato il vincolo quinquennale altrimenti potrà chiederlo solo eh su eh posti eh di sostegno eh per tutte le altre eh operazioni ecco eh diciamo eh che ci sono anche diversi eh punteggi eh eh sono abbiamo detto sei e per il ricongiungimento eh al familiare punti quattro per ogni figlio o affidato di età inferiore ai sei anni e punti tre per ogni figlio o affidato di età superiore ai sei anni e non inferiore eh a eh tre anni ehm il eh non sono valutati e su questo dobbiamo essere eh chiari eh valutati titoli o anzianità eh di servizio eh il per questo eh possiamo eh chiudere questo primo eh appuntamento eh con le guide eh di eh orizzonte scuola ehm eh tv eh vi do appunto l'appuntamento alle prossime puntate eh e eh potete rivedere questa eh questa eh questo tutorial sul nostro eh sito sulla nostra pagina Facebook e sul nostro eh canale eh YouTube. A presto eh su Orizzonte Scuola TV. Grazie. Grazie.